La mia cuoca prediletta preparerà delle succulenti lasagne al forno con pollo al forno in quest'oasi di pace e di tranquillità verranno gustate in maniera molto dignitosa e anche un po' famelica devo dire. Ottimo, benissimo, quasi buon appetito anche se un po' tardi ma meglio tardi che mai ecco qua fuma fuma con legna biologica e non è poco ecco lì questa è la parte dove si mette il fuoco eccolo qua e questa è la camera di cottura blindata nel senso che non è a contatto con la legna che brucia sono tutte intercapedini dove passa il fumo eccezionale questo questo forno di origine siciliana complimenti